Ciao ragazzi benvenuti in questa domenica anzi la domenica sta per finire quindi buona fine di domenica e buon inizio per la prossima settimana ci sono le vostre domande come ogni settimana e allora parola chiave ogni settimana perché magari qualcuno salta la intro non perdiamo tempo e iniziamo subito ora chiuderanno tutto il video e questo mi farà molto molto felice beh se ci siete ancora siete dei grandi partiamo la prima domanda di mattia network oneplus 5t è stabile e usabile come primo telefono allora non l'ho provato direttamente l'ho visto l'ho utilizzato ovviamente parliamo di un top di gamma con una dotazione tecnica pazzesca quindi è assolutamente stabile e assolutamente utilizzabile come primo telefono sarebbe anche uno spreco utilizzarlo come secondo telefono oneplus 5t diciamoci la verità e quindi sì se sei intenzionato ad acquistarlo acquistalo pure perché è un ottimo telefono del riccardo 1900 ciao una domanda compreresti honor 8 pro o aspetteresti honor v10 allora ciao riccardo io honor v10 se mi avete seguito a londra in quell'avventura l'ho provato a londra nel corso della presentazione tra l'altro vediamo se riesco a mettervi sta foto purtroppo non si vedrà tanto perché purtroppo ce ne siamo accorti tardi ma ci è sfilato nel corso della presentazione ora ne parlo così metto anche l'hashtag magari monetizziamo meglio mi è passato due volte così unbox therapy e quindi le ho fatto anche una foto due in realtà ma si vede una peggio dell'altra perché poi era completamente distante da me erano forse 20 metri e allora con lo zoom 10 per dell'iphone 10 è venuto quello che è venuto era buio però forse se sapete chi ha unbox therapy loro lo riconoscete però mi è passato due volte e gli volevo chiedere una foto ma non ce l'ho fatto vabbè niente andrea fanboy andrea fan di unbox therapy in realtà no però lo stimo comunque compreresti honor 8 pro o honor v10 stavo dicendo l'abbiamo visto lì a londra honor v10 l'abbiamo provato l'ho toccato con mano estremamente sottile estremamente potente ha una batteria bella grossa quindi sono veramente curioso di provarlo e ti direi honor 8 pro ormai costa un po meno però è comunque un ottimo smartphone ma honor v10 secondo me non mi è piaciuto tanto il fatto che sia un po più cioè honor 8 pro è bello massiccio è un qualcosa che ho anche apprezzato però honor v10 sembra migliore in tutto poi ha quello schermo bellissimo borderless insomma esce a gennaio io aspetterei honor v10 in modo abbastanza sicuro cosa ti aspetti da g7 mi chiede fabrizio daniele io dopo v30 ho perso un po di fiducia in lg perché per la prima volta che hanno fatto un telefono senza compromessi lo hanno fatto arrivare sul mercato tardissimo tra l'altro non si può neanche dire che si è arrivato sul mercato perché acquistarlo è estremamente difficile hai ragione hai ragione e mi dispiace però perché lg era partita benissimo quest'anno col g6 poi non l'hanno seguito con gli aggiornamenti poi però è stato reso subito obsoleto da s8 poi presentano v30 a berlino lo proviamo bellissimo in mano da una sensazione pazzesca però non arriva in commercio o in pratica sta arrivando ora con grosse difficoltà e fatto sta che così ora arriva il mobile world congress c'è il g7 da vendere il v30 ha grosse difficoltà ad essere venduto il g7 cosa farà boh come sarà boh sarà un duplicato del v30 non lo sappiamo insomma di sicuro a livello di strategia stanno peccando un po come prodotti no ma come strategia sì speriamo si rimettano in carreggiata perché sarebbe un peccato vedere anche lg insomma che alza un po bandiera bianca christian tilocca ciao andrea ti volevo chiedere che smartphone dovrei comprare se voglio uno smartphone aggiornato tanto quanto gli iphone a parte i pixel insomma uno che duri nel tempo allora è come ti hanno risposto nei commenti android one uno smartphone android one oppure direi un motorola un un moto perché sono gli smartphone che vengono più spesso aggiornati motorola fa un lavoro eccellente sui sui device li aggiorna subito con esperienza stock praticamente gli android one hanno quella marcia in più però di ricevere gli aggiornamenti direttamente da google con esperienza google totale e dal mio punto di vista ve ne ho parlato già nel video della top 5 sopra anzi sotto i 200 euro xiaomi mi ha uno sì vai con lui non te ne pentirai anzi poi torna qui a dirmi che avevo ragione che un ottimo smartphone perché andrà così ho la sfera di cristallo anzi no ma te lo so comunque dire ti troverai benissimo se lo acquisterai come mai ho già oreo mi chiede sofia 811 able oreo 8.1 sul mio nexus 6p ormai strausato ma perfetto certo sto riscontrando problemi di stampa incontrato sul display fotocamera posteriore da cambiare speaker microfono basso ma mi dici di aggiustarlo o cambiarlo allora per quanto riguarda oreo 8.1 è normale che tu già lo abbia perché è un pixel è un nexus scusa ma si aggiorna subito per quanto invece riguarda il discorso dei dei problemi beh forse potresti anche pensare di cambiarlo magari con un bel pixel 1 importato un pixel 2 importato un pixel 2 xl che però trovi anche in italia ma costa una barcata di soldi e non è poi perfetto in alcuni aspetti quindi secondo me potresti cambiarlo anche con altro magari anche con un android one di quelli di cui parlavamo prima però lì devi scendere un po come fascia di prezzo se vuoi invece restare sulla fascia alta e avere un'esperienza come quella del pixel del nexus deve andare sul pixel altrimenti se vuoi un qualcosa di simile ti direi magari buttati su un htc 11 che è un ottimo smartphone come esperienza android non è molto diversa dalla stock ripararlo sinceramente non lo farei perché immagino che i costi non saranno poi così accessibili siamo arrivati all'ultima domanda di questo video sì velocissimo ragazzi perché è momento di preparare le valigie per la vacanza di settimana prossima devo andare in vacanza anch'io quindi se ora non mi spiccio la valigia non la chiudo e domani non parto conviene ora comprare un s8 mi chiedono domenico e maria javarone e la risposta è ni perché s8 ora si trova al miglior prezzo di sempre ovviamente passa del tempo si svaluta diventa più interessante però se avete seguito anche il video di giovedì si parla sempre di più di s9 che potrebbe arrivare prima del mobile world congress al mobile world congress dopo il mobile world congress insomma febbraio marzo aprile quelli sono i mesi più o meno è quindi siamo estremamente vicini in pratica di mese non caldo per il probabile rilascio di s8 c'è solo gennaio a gennaio non dovrebbe arrivare poi potrebbe arrivare a febbraio marzo aprile e quindi ci siamo ormai ci siamo è vicinissimo ovviamente sarà un telefono che all'uscita costerà molto di più di quanto costa oggi galaxy s8 mi pare logico però insomma s8 va ancora benissimo se vuoi il meglio però ti consiglierei di attendere se invece vuoi un ottimo telefono senza spendere una barcata di soldi come costerà s9 all'uscita magari potrà toccare anche gli 800 900 1000 euro non lo sappiamo allora vai di s8 bene ragazzi questo q&a tech day finisce qui io vi ringrazio per avermi seguito la parola chiave ve l'ho già detta se ve la siete persa beh dovete riascoltarvi tutto il video o magari solo l'inizio vi ho dato un gigantesco spoiler noi ci sentiamo alla prossima mi raccomando sotto con le domande non solo sotto qui ma proprio sotto cioè datevi da fare buona fine domenica buon inizio per la prossima settimana ciao a tutti da andrea cervone per tech.it